Sì, 100 panchine, una vittoria che è molto importante, una vittoria che dedico soprattutto al vicepresidente Giovenzi che in questi momenti è stato molto vicino a me, molto vicino al mio staff, alla squadra e questo è importante. Dopodiché anche al direttore che ha avuto un bimbo e sinceramente è un momento importante, una partita importante che abbiamo secondo me giocato in maniera perfetta dal punto di vista tattico con i vari raddoppi sui due cabrini, con una marcatura importante su Manfroni. I ragazzi devo fare i complimenti perché reagire dal pareggio al 95esimo di domenica non era facile, sono stati molto bravi e abbiamo lavorato molto questa settimana sul profilo mentale e fargli capire che comunque i campionati sono di 34 partite e non di una partita sola. Bisogna guardare sul lungo, nel senso che i campionati vanno fatti guardando tutte le partite. Io non posso giocare bene una partita al mese e rischiare poi di prendere delle imbarcate. In questo momento qua la squadra sta tenendo un ritmo vero, un ritmo secondo me importante. Dopodiché pensiamo già a mercoledì, ho già la testa a mercoledì perché mercoledì è una partita veramente delicata per chiudere l'anno in una maniera importante. Loro siano la squadra tecnicamente più forte del campionato, hanno dei giocatori veramente importanti dal punto di vista tecnico e noi siamo stati bravi a partire forte. Pensavamo una partenza forte loro invece abbiamo impattato in maniera importante soprattutto nelle ripartenze che alla fine è quello che ci fa veramente fare in questo momento starla davanti. Sono questi equilibri qua. Credo che come dicevo prima la squadra deve continuare con questo passo. Poi vedremo da marzo quando torneranno le rondini dove saremo. Sì, diciamo che ci poteva stare la punizione dal limite, poi ci sono stati altri due falli noti, anche rigori, che però l'arbitro non ci ha dato. Comunque è stata una partita combattuta, loro una squadra molto forte, siamo partiti molto bene sfruttando le occasioni che ci sono venute e che l'abbiamo portata a casa. Sì, sono contento dei 9 gol e devo solo ringraziare il mister che mi ha dato fiducia fino ad oggi, però sono davvero contento. È esposito giocare, infiniti palloni, infatti è veramente bello giocare con lui. Abbiamo approcciato secondo me in fase difensiva molto male la partita, nel senso che abbiamo concesso tre occasioni e loro gli avversari sono stati bravissimi nelle tre occasioni a fare tre gol. Però abbiamo fatto in tutte e tre i gol degli errori gravi. Sul primo gol abbiamo perso l'uomo sul taglio, da palla ferma, un errore gravissimo. Sul secondo un po' condizionato anche dal campo, probabilmente il portiere non è riuscito a venire fuori su un traversone molto semplice, è il mio modo di vedere. E sul terzo gol abbiamo perso una marcatura troppo lontana permettendo al giocatore di prendere la mira, poi c'è stata anche una deviazione che ha tagliato fuori il portiere. Quindi diciamo che in fase difensiva al primo tempo male male, per fortuna nel secondo tempo abbiamo fatto un'altra partita, un'altra fase difensiva, però purtroppo quando perdi 3-1 poi diventa difficile ribaltare partite con squadre organizzate, buone squadre che giocano bene, che hanno qualità, quindi bisogna stare più attenti se si vuole fare un salto di qualità e vincere certe partite.